Ciao caro Mauro, quanto è difficile fare trasmissione oggi. Impossibile per chi come noi ha avuto la fortuna di condividere con te tante ore, tanti momenti, tante serate. Te ne sei andato alla vigilia del derby, la tua partita, quella in cui volevi vedere la tua Inter tirare fuori il meglio, come facevi tu da giocatore. Per tutti gli altri se ne è andato l'ex calciatore, per noi no. Noi abbiamo perso un amico, una persona speciale, cui era impossibile non volere bene. Un amico di 7 gold, un amico di tutti. Ci hai fatto divertire, ci hai raccontato la tua vita spericolata sempre con il sorriso, con gli occhi furbi di chi ne ha vissute e fatte un'infinità. Ci mancheranno le tue parole, il tuo essere chiacchierone in ogni momento, sempre, in onda e anche fuori onda. Un fiume inarrestabile, impossibile da contenere, unico nel tuo genere. Tu, titolare signore dei nostri up and down, il tuo momento, quello per cui, come dicevi tu, per ascoltarli, si collegano anche dall'America. Ci dicevi sembra anche un'altra cosa, con quello che ho fatto e vissuto potrai scriverci un'enciclopedia. Abbiamo avuto l'immensa fortuna di leggere tanti capitoli della tua enciclopedia e avremmo voluto leggerne ancora altre. Hai combattuto anche nell'ultimo periodo, altri si sarebbero arresi. Tu no, figurarsi. Guardavi già avanti al prossimo ostacolo da superare, alla tua maniera. Ciao Mauro, nei nostri up and down, per te ci sarà sempre un 10-9. Ci mancherai. Ciao Mauro, nei nostri up and down.